In questa puntata di Unicam News presentata la nuova campagna di comunicazione dell'Università di Camerino, concluso con successo il corso di perfezionamento su manifattura e conservazione dei materiali cartacei, il rettore Corradini invitato ad Expo dal Ministero dell'Ambiente, infine ancora un successo internazionale per la ricerca di Unicam. Ben ritrovati dalla redazione di Unicam News, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento, abbiamo sentito gli argomenti che affronteremo in questa puntata e allora iniziamo subito. È stata presentata ieri dal rettore Flavio Corradini la nuova campagna di comunicazione dell'Università di Camerino in vista dell'apertura delle iscrizioni all'anno accademico 2015-2016. Unicam, cibo per la mente, nutrimento per la vita e questo lo slogan ha scelto con un particolare riferimento a quelli che sono i temi del grande evento che vede protagonista l'Italia in questo periodo. La formazione universitaria, in particolare quella che i corsi di laurea dell'Università di Camerino si prefiggono di trasmettere ai propri studenti, è l'infavitale per la crescita dei nostri giovani e di conseguenza per la società tutta. L'impegno, la determinazione e la creatività durante il periodo universitario, seguendo il proprio talento e le proprie aspirazioni, saranno dunque il cibo che gli studenti potranno trasformare, una volta laureati, in nutrimento ed energia necessari sia alla loro vita che al paese tutto. Ascoltiamo allora l'intervista che abbiamo realizzato al rettore Unicam, Flavio Corradini. È un lavoro estremamente bello, sintesi di un modo di concepire l'Università e l'Università di Camerino. Ringrazio naturalmente tutto l'Ufficio Stampa e Comunicazione per questo lavoro svolto. In una pagina ci sono tantissime iniziative e tantissimi modi di crescere culturalmente. Il cibo come alimento, quindi formazione, istruzione e crescita da un punto di vista vocazionale e curricolare, ma in un'ottica nutrimento per una vita, per una vita professionale, per una vita da donne e uomini inserite in una comunità e in una civiltà sociale importante, mamme e papà del futuro. E si è concluso nei giorni scorsi a Fabriano il corso di perfezionamento su manifattura e conservazione dei materiali cartacei, promosso dal corso di laurea unica in tecnologie e diagnostica per la conservazione ed il restauro in collaborazione con il Comune di Fabriano e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupra Montana. I partecipanti hanno affrontato molte tematiche riguardanti la carta, dalla conoscenza del materiale alla diagnostica, dal restauro alla manifattura artigianale. I ragazzi sono stati impegnati in laboratori operativi e si sono confrontati con i reali problemi di conservazione dei materiali. Le lezioni sono state tenute da docenti Unicam, ricercatori ed artigiani esperti del settore. Obiettivo del corso è stato infatti quello di favorire la riscoperta degli antichi mestieri come opportunità lavorativa per i giovani che vogliono avviarsi ad un lavoro sempre più utile e al tempo stesso creativo, ma è anche rivolto al recupero e alla riscoperta dell'identità della cultura territoriale marchigiana. E prosegue la presenza di Unicam ad Expo 2015. Il rettore Flavio Corradini e il professor Massimo Sargolini, docente della Scuola di Architettura e Design, hanno infatti partecipato in qualità di relatori all'evento conclusivo della Mountain Week Expo 2015, iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente nella funzione di presidenza italiana di turno 2013-2014 della Convenzione delle Alpi e lanciata con l'obiettivo di porre all'attenzione dei visitatori dell'esposizione universale il contributo che i territori montani possono dare al tema della sostenibilità alimentare. L'evento di chiusura tenutosi presso il teatro al centro della terra nel Parco della Biodiversità di Expo è stato dedicato al green marketing per i prodotti di montagna con il coinvolgimento di enti che portano esperienze e punti di vista sull'argomento. In particolare il rettore Corradini ed il professor Sargolini hanno relazionato su un progetto di ricerca europeo su appennini, alimentazione, paesaggio e turismo sostenibile nelle regioni appenniniche italiane. Ancora un successo internazionale per la ricerca di Unicam e il professor Carlo Rimieri, docente Unicam della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, è infatti coinvolto nel progetto europeo Pastores Andinos, volto allo sviluppo di aree svantaggiate ed è coordinatore di un progetto di ricerca per il Costa Rica che ha ottenuto un ingente finanziamento da parte di un'importante fondazione privata. Lo abbiamo incontrato, ascoltiamolo in questa intervista. Pastores Andinos è un progetto dell'Unione Europea nell'ambito del bando Europeid e sono progetti per il sviluppo e il trasferimento tecnologico in aree particolarmente svantaggiate. Lavora nell'altopiano andino, coinvolge quattro stati, il Peru, la Bolivia, l'Equador e l'Argentina. Noi siamo stati chiamati perché abbiamo fatto per vent'anni ricerca in quest'area, lavorando sui lama e sui alpache e siccome riguarda la sicurezza alimentare delle popolazioni che vivono sulle Ande, ci hanno chiesto di poter diffondere le ricerche che abbiamo fatto sul sistema di produzione della carne in questi animali. Il Costa Rica ha firmato con l'Unione Europea un trattato di scambio commerciale che riguarda anche i prodotti agroalimentari. Il loro modo di produrre in questo momento non sarebbe assolutamente consono per poter esportare nell'Unione Europea e questo vale soprattutto per le carni, di cui i carni bovine, di cui Costa Rica è un grande produttore. Una società italiana che lavora da anni in Costa Rica, in vari settori economici, ha deciso di occuparsi di questo aspetto per poter arrivare a mettere in piedi un sistema di commercializzazione. Per farlo c'è bisogno di fare alcune ricerche, in maniera particolare su questa razza izbubrahman di cui esistono circa un milione e mezzo di animali in Costa Rica e quindi ci hanno chiesto di coordinare questo progetto che è fatto da cinque settori importanti, il miglioramento genetico, la qualità della carne, la messa a punto di un sistema di etichettatura internazionale di queste carni, il miglioramento dell'efficienza riproduttiva e poi la formazione perché offriremo sei dottorati di ricerca a giovani ricercatori del Costa Rica. Il progetto durerà cinque anni e noi siamo coordinatori insieme a quattro unità tecniche del Costa Rica. E con questo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Unicam News. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo come di consueto che tutte le informazioni che desiderate sull'Università di Camerino le trovate nel sito www.unicam.it. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è per mercoledì prossimo alla stessa ora. Grazie per aver guardato il video.